A coronamento della terza fase di tamponi sugli ospiti del centro d'accoglienza di Treviso, su 309 persone sottoposte al test di cui 284 migranti, ben 244 sono quelle positive al Covid-19. Il numero di contagiati in quarantena all'interno del centro è quasi raddoppiato nell'arco di sette giorni. Tutti i migranti rimarranno comunque all'interno della struttura. Noi eravamo da più di 50 giorni comune Covid-free e quindi adesso ripiombare nell'incubo del contagio semplicemente perché non sono stati in grado di gestire questa emergenza all'interno della struttura. O ci sono state delle leggerezze, credo che non sia un conto che la comunità trevisiana deve continuare a pagare. Tra i contatti tracciati dei dipendenti della struttura, solo due persone su 130 sottoposte al tampone sono risultate positive. Arrivata a Lampedusa intanto la nave azzurra con a bordo 350 migranti che debbono svolgere la quarantena. Si è così provveduta l'operazione di imbarco dei migranti ancora ospitati nel centro d'accoglienza. Si aggrava il bilancio dei positivi al Covid. Sono 12 oltre a 6 casi incerti.